Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo della Petzl Swift RL, una torcia frontale veramente leggera perché comunque parliamo di soli 100 grammi, una torcia frontale molto intelligente perché ha un sensore di luminosità ma che non è proprio perfetta e la vediamo adesso nella recensione completa. Inizio a parlarvi di questa Petzl spiegandovi come l'ho testata. Io l'ho utilizzata durante il mio Scenic Trail in cui ho corso tutta una notte ma non solo, l'ho utilizzata anche in tanti altri allenamenti in cui ho avuto modo di poterla utilizzare anche per diverse ore in diversi momenti della notte. Partiamo dal fatto che questa Petzl è veramente veramente leggera, cioè pur avendo un corpo comunque abbastanza grosso perché ci sono delle torce che sono decisamente più piccole, pesa solo 100 grammi, il che è sicuramente un pregio perché se dobbiamo pensare magari di fare 10 ore di corsa con questa torcia sulla parte frontale, sulla nostra testa, per avere qualcosa che pesa alla lunga può dare veramente fastidio. È una torcia molto particolare perché con la sigla RL che sta all'interno del nome si va a indicare il Reactive Lighting, ovvero questo sensore che si trova qua sulla parte destra della torcia che ha un sensore di luminosità. Che cosa fa il sensore di luminosità? Va a capire quanta luminosità c'è nel momento in cui noi stiamo correndo, camminando e va a regolare automaticamente la luminosità della torcia per arrivare ad avere la miglior resa tra luminosità e risparmio di batteria. Mi spiego, se noi siamo in un momento, faccio un esempio all'alba in cui magari sta iniziando ad esserci luce, il nostro sensore va a capire che c'è luce comunque attorno a noi e va a diminuirne la luminosità, la potenza della torcia, quindi va a farci risparmiare energia. Al contrario, se siamo in una notte proprio buia, siamo magari in un bosco fitto, dove proprio luminosità non ce n'è, lui capisce che luminosità non ce n'è e va a portare la torcia ai 900 lumen, quindi ha la potenza massima per poterci illuminare attorno. Ma come funziona questo sensore? Beh, allora, diciamo che mi ha soddisfatto a metà. Sicuramente è un'ottima implementazione, la tecnologia mi piace, perché soprattutto quando la utilizziamo sia al tramonto che all'alba e magari nel bosco, dove facciamo magari 20 metri in cui c'è luce perché non ci sono alberi, e 20 metri in cui torniamo al buio perché ci sono alberi fitti, lui ci cambia automaticamente la modalità, la potenza della torcia, quindi ci fa risparmiare davvero tanta batteria. Però il sensore non è tarato benissimo, mi spiego meglio. A me è capitato, correndo con delle persone davanti, durante la gara di trail, queste persone avevano le parti, come dire, fosforescenti o delle parti catalinfrangenti, beh, il sensore lo vedeva come luce che tornava indietro e mi abbassava la luminosità, anche se io non lo volevo. Allo stesso modo, faccio un esempio, se io chienavo la testa per guardare l'orologio, l'orologio mi riflettava la luce, quindi lui andava a diminuire, ma anche con superfici particolarmente riflettenti, che può essere magari una roccia umida, bagnata o un torrente. Diciamo che potrebbe essere tarato meglio, ecco. Se corriamo da soli non ho avuto grandi problemi, ma se corriamo magari con tante persone attorno, lui tenderà ad andare molto in risparmio, anche se non abbiamo bisogno di potenza. Quindi da questo punto di vista mi ha soddisfatto, ma diciamo attorno all'80%, non sono pienamente soddisfatto. Possiamo però decidere di andare a togliere il sensore con il pulsantino superiore e andare a decidere noi a quel punto direttamente la gradazione, quanta potenza vogliamo. A quel punto abbiamo le nostre tre potenze proprio della torcia, da 100 lumen, 300 e 900, poi questi cambiano un attimo in base se vogliamo il sensore RL o no. Comunque abbiamo le nostre tre potenze, possiamo noi decidere di andare a impostare, ad esempio la potenza media, poi che inizia a far buio, che ci sia più luce, che ci sia superfici che riflettano o no, lui rimarrà sempre con la potenza. Qui andiamo a quel punto ad escludere il nostro sensore di luminosità. E comunque, vi dico per la verità, io l'ho utilizzata praticamente sempre nella modalità media, quindi quella, diciamo, migliore dal punto di vista tra risparmio energetico e potenza. Non ho mai avuto problemi, anzi il fascio luminoso secondo me è anche buono, è un buon compromesso tra profondità di campo e larghezza di campo. Poi naturalmente, in base alla potenza come decidiamo, cambia anche la durata della batteria. Se noi andiamo a utilizzare le potenze fisse, beh a quel punto avremo la nostra scala, in cui sappiamo che la tot potenza corrisponde tot durata della batteria. Ma quello che voglio riportarvi, perché mi sembra il dato più sincero e più importante, è la durata della batteria nel caso in cui non andiamo a utilizzare il sensore di luminosità. Il sensore di luminosità fa durare la batteria all'incirca sulle 12 ore, ora più, ora meno. Dipende naturalmente la potenza che utilizza il sensore. Io sono stato sulle 12 ore con entrambe le batterie su diversi cicli, quindi secondo me è il dato migliore che possiamo ottenere. Ma come facciamo a capire a che punto siamo della batteria? Beh, è molto semplice, perché nella parte superiore abbiamo 5 led che ci vanno a indicare la carica della batteria. Ma come probabilmente avrete intuito, questa torcia ha anche la batteria sostituibile. Per sostituirla è veramente semplice, basterà andare a ruotare completamente la torcia, finché questa non si girerà di 180 gradi e quindi potremo andare a togliere la batteria e aggiungerne un'altra. L'unica cosa che non mi ha proprio convinto è la velocità di ricarica della batteria. La batteria si ricarica in poco più di 5 ore ed essendo comunque una batteria molto, molto piccola, è davvero, davvero tanto tempo. Cosa altro mi è piaciuto di questa torcia? Innanzitutto il pulsante superiore, perché oltre a permetterci di poter cambiare modalità e cambiare se vogliamo sensore di luminosità o no, ha anche un blocco per evitare che se mettiamo la torcia all'interno dello zaino questa si possa accendere e buttare via batteria quando non ci serve. Altro aspetto che mi è piaciuto particolarmente è tutto il cinturino, perché questo qua di tecnologia direttamente di Petzl è fatto in due parti e è molto comodo, è veramente facile da andare ad aumentare e diminuire di grandezza, quindi se vogliamo stringerlo, perché magari l'abbiamo stretto male durante il nostro trail, possiamo farlo senza tanti problemi. Mi piace molto anche il fatto che tutta la parte davanti, quella grigina, ha all'interno un comodo cuscinetto che non ci fa premere la torcia contro la fronte e soprattutto non ci fa nemmeno sudare. E poi legato a tutto questo, naturalmente, la stabilità. Questa torcia è veramente molto stabile, anche nel movimento proprio della torcia sul suo asse è veramente molto stabile, anche se corriamo questa non tenderà a muoversi. Possiamo volendo anche puntarla all'insù, se dovessimo per qualche motivo andare a correre, non lo so, per qualche esigenza. Comunque possiamo puntarla all'insù, che questa feature di solito non c'è su tante altre torce. E che dire, sì, diciamo che questa torcia mi ha convinto. Un piccolo aspetto negativo che proprio non mi ha fatto impazzire è il fatto che quando noi, faccio un esempio, siamo nella modalità minima di potenza e vogliamo spegnerla, questa, anche se noi l'abbiamo accesa da più di un'ora, dovremo andare alla modalità media massima e poi questa si andrà a spegnere. Ci sono tante torce che invece implementano una funzione che magari dopo 10 secondi che la torcia accesa non viene utilizzata, quando andiamo a premere il pulsante si spengono direttamente. Questa cosa non succede e ogni tanto magari se vogliamo spegnerla andare a premere più volte, a me è capitato anche di dover rifare il ciclo perché magari ho premuto più volte del dovuto, è un po' una piccola pecca. Ci voleva veramente poco per rendere questa torcia praticamente perfetta. Un altro aspetto da dover considerare di questa torcia è sicuramente il prezzo. Non è una torcia economica, viene venduta sui 90 euro con una batteria e l'altra batteria, se ricordo male, costa sui 40-50 euro se vogliamo andare ad aggiungerla. A mio parere è una torcia per persone che sicuramente la utilizzano tanto perché non andrei a spendere una cifra così alta se andassimo a usare la torcia due volte l'anno. È pensata per professionisti, è pensata per chi fa attività outdoor belle, impattanti, quindi magari gare di ultra trail, gare di sci di fondo, magari di gare di sci alpinismo con magari anche parti di notte perché vogliamo fare uscite di notte, alpinismo e via dicendo. Ha un ottimo range di funzionamento per quanto riguarda le temperature. E che dire, io mi ci sono comunque trovato bene. Beh, per quello che faccio io è praticamente quasi perfetta tolte le piccole cosine che vi sono andato a indicare. Per il resto, io sinceramente non la consiglierei a chi vuol fare escursionismo ma perché secondo me è fin troppo elevata come torcia per quell'attività. La consiglierei, come vi dicevo, a chi fa attività più impattanti in cui veramente c'è bisogno di avere uno strumento leggero, affidabile e molto potente. Dato ciò ragazzi, sia nella speranza di essere stato isauriente e esastivo anche per questo video. Vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!